Ben gioco! No, 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 no! Stai attento, stai attento! E rispetta i piani! Ci sono stati tanti piani! Qual è quello giusto? Trovare lei, prendere l'orologio e ritrovarci al quartale! E per lei intendi... Lena! Lena! Ehi, allora, finisce qui! Eccola lì! Vai! Devo proprio andarci! Sì! Grazie, sei la migliore amica che si possa desiderare! Ce la puoi fare! Chi è la sua migliore amica? Una ballerina di nome Lena. E la tua? Una ragazzaccia di nome Ines! Grazie di tutto, Ines! E raccogli tempo! Distraili con questo! È ciò che vogliono! Devo trovare Harry! Ok, corri! Ci penso io! Grazie a tutti! Grazie a tutti. Grazie a tutti.